Stiamo funzionando? Sono sia su Twitch sia su Instagram. Oggi parliamo dei gruppi di lettura che faremo nel 2023. Su Twitch non sta andando. Spettiamo, vediamo. Ok, è andato. Parleremo dei gruppi di lettura del 2023, quindi vi dico tutta quanta l'organizzazione e anche uno spoiler dello shop riguardo dei gruppi di lettura che spero possa piacere. Quindi vi racconto proprio quali sono i gruppi, quali sono i libri di ogni gruppo e proprio anche quale mese sono, eccetera. Ciao, Jessie! Adesso ovviamente aspetto perché sono in anticipo come al solito. Tanto controllo che vada tutto. Se qualcuno di Instagram ha voglia, mi fa sapere che si sente e si vede, così lo so. Come stai? Emozionata? Sì, sì, perché non vedo l'ora di fare questa diretta anche perché è veramente... Cioè, mi lo tenevo da troppo. Che belli i capelli si vedono nelle punte ondure. Ah, è vero, sì, perché adesso ho abbassato la... Ho abbassato la visuale in modo tale che si veda... Su Instagram tutto ok, dice fidanzato, ok. Suono, lo tolgo subito, vabbè. E dicevo, ho abbassato la videocamera qui su Twitch perché così mi vedo da tutte e due le parti e quindi su Twitch si vedono il fondo, si vede il fondo dei capelli. Va bene, va bene. Su Instagram ho visto che c'è Barbara. Ciao, Barbara! Anche te, Jessie, in realtà ci sei. Anche Twitch, ok, fidanzato, va bene. Ovviamente mi si è impallato il video, ottimo, quindi ti guardo su Instagram e ti scrivo qui su Twitch, va bene? Va benissimo. Teoricamente dovrei vedere se mi si iscrive sia da una parte sia dall'altra. Aspetto le sei, poi dico tutto. Se avete domande ovviamente fatemene durante il viaggio, io appena le vedo vi rispondo. Quindi non ho sentito la tua risposta. Ho sentito, la risposta sui capelli era Sì, ho messo il video più basso in modo tale da tenere tutte e due le videocamere una supera l'altra e quindi c'è un'inquadratura diversa dal solito. Che luce diversa, va, infatti. Soltanto che per riuscire a fare sia Instagram sia Twitch faccio del mio meglio. Brava Bea, scrivi anche per me che io sono indaffarata. Ciao, io ti guardo di qui perché Instagram è il male. Va bene. Ciao, ciao, come non esserci oggi? Ciao Barbara, ci sei mancata tutte le volte. Salve, sono curiosissima, vai. Non vedo l'ora di dire, così me lo tolgo e finalmente non devo più tenere nascosto niente. Sì, sì, la prima risposta su come ti senti non ho sentito a me. Ah, beh, sì, sono agitata perché non vedevo l'ora di parlarne. Mitica sempre tu. Sto anche lavorando però ci sono delle priorità. Hai ragione Bea. Questo qui è un unicum. C'era una volta nell'anno. Basta. Ciao Else. Ciao a tutti quanti anche su Instagram, eh. Ok. Manca un minuto e inizio. Dimmi dove spenderò il mio prossimo stipendio. Ok. Allora, mi sono persa l'elastico. Dove l'ho appoggiata? Ecco. Ok, che sto già morendo di caldo. Allora, oggi parliamo. Allora, prima di tutto vi dico i gruppi di lettura che ci saranno e i libri che leggeremo. Poi vi dico allo spoglio dello shop perché così è stato deciso in diretta ieri. No, l'altro ieri. Ti attengo, peraltro, vergognosamente, visto che sto scontando te e non lavorando. Ma è tutto coerente. Mamma mia, mi sembra pochissimo che abbiamo fatto quella dello scorso anno, invece è passato un anno. Sì, infatti. Prendi tutti gli appunti tu che non ho il foglio protocollo. Allora, ovviamente, tenete conto che anche quest'anno ci sarà il calendario, eh. Quindi per chi è interessato al calendario non vi spaccate di appunti perché non ci sarà problema. Mamma mia, mi sembra pochissimo. Beh, l'ho già letto. Ciao, Lulu. Vero. Sì, infatti è passato... Sembra passato pochissimo dall'altra diretta, invece è già passato un anno. Ciao, Sara. Ok, sono le 18. Iniziamo. Allora, gruppi di lettura 2023. Come al solito i miei gruppi di lettura saranno tematici e già fissi, già belli organizzati e tutto. Sì, beh, però il calendario arriverà tra un po'. Inizio a segnarmi le cose almeno grandi linee. Ah, sì. In realtà arriva molto... Ok, Jessie mi ha scritto quello che ha pensato ma non sono riuscita a leggere, Jessie. Ma dopo lo leggo, ti faccio sapere. Ciao. Allora, stavo dicendo... Ah, comunque il calendario c'è già, quindi... Quindi nel senso non dovrete aspettare tantissimo. E vi basta aspettare che arrivi in caso lo prendiate, insomma. E allora, dicevo. Gruppi di lettura sono come al solito divisi per giorni, sono come al solito divisi per, diciamo, tematiche, ma adesso capirete meglio quali sono le tematiche. Sono sempre già prestabiliti i libri, eccetera. In realtà c'è una sorpresina in mezzo a questo discorso, ma la dico fra un po', insomma. Spoiler calendario, guarda. Oppa! È qui perché per dirvi i libri guardo il calendario, quindi è già qui. E quindi, inizio dicendomi quello del lunedì. Che dite? Non vi dico subito quello che preferite, perché, cioè, non... Altrimenti... Aspetta che tolgo il messaggio di Jessie, che sono... Non vedo più niente. Buonasera, Silvia. Allora, il gruppo di lettura che ci sarà ogni lunedì... U, è azzurro, esatto. In quest'anno è azzurro il calendario, abbiamo cambiato il colore, così... Le persone che ci sono stancate del rosa quando voglio possono avere un attimo di pausa, almeno... Almeno per il calendario. Devo stare attenta perché rischio di fare spoiler prima del momento in cui devo parlare. Ok. Allora. Il gruppo di lettura che ci sarà il martedì si chiamerà Maratona Scrittori. E sarà, ovviamente, di libri di scrittori. Sì, scusa, tra poco ti arriva il mio messaggio, se no puoi salatare. Sì, in realtà mi è già arrivato, ma non l'ho visto. Sto azzurro, rivelazione, fa molto gender reveal. Il mio bambino, vi sto raccontando il mio bambino. Allora, quindi sarà la Maratona Scrittori, quella del lunedì. E adesso vi dico tutti quanti i libri che leggeremo per la Maratona Scrittori. Sono tutti quanti rigorosamente in ordine cronologico, cioè quindi dal più vecchio al più contemporaneo. E ovviamente vi metterò la lista comunque prossimamente su Instagram, quindi non vi preoccupate per tutte le listine e le robe, vi dico tutto. Ma adesso intanto ve li spoilerò. Allora, a gennaio... Ah, e quest'anno sono divisi un po' meglio a livello di mesi. Cioè nel senso che a volte ci sono anche due settimane tipo di stacco pur di rimanere nel mese specifico in modo tale che siano un po' più organizzati. Il motivo... Cioè, c'è, insomma, era importante. E quindi sono un pochino più inseriti dentro i mesi. Quindi se vi dico a gennaio, è propriamente il mese di gennaio. Ottimo, preferisco così. Ecco, infatti anch'io. Maratona Scrittori già mi piace, bene. No, la parte di quello che ho pensato non è ancora arrivata, te ne invio a fine diretta, ma l'ho già scritta. Ah, ok, ok. Ottimo. Spero sarà possibile recuperare la registrazione perché sono indafferata al momento. Non ti preoccupare, tengo la registrazione sia su Instagram sia su Twitch e la metterò anche su YouTube, quindi si potrà recuperare dove preferite. Tutta la scelta è se mi volete invernale o versione estiva. Su Instagram sembro sempre abbronzata, su invece Twitch sembro mezza morta o una vampira, presumibilmente. Allora, Maratona Scrittori a gennaio leggeremo A sangue freddo di Truman Capote o Capoti. Non so ancora come si dice perché sento dirlo in vari modi e quindi ve li dico tutti e due così quello giusto c'è. Poi, a febbraio e marzo leggeremo Le regole della casa del Sidro. Poi, a marzo ve l'ho già detto, ad aprile leggeremo, aprile e maggio, leggeremo American Psycho. Ovviamente moltissimi dei titoli che vi sto dicendo li avete scelti voi nel canale dei gruppi di lettura. Quindi la maggioranza dei libri li sapete già perché appunto ho messo i libri che avete segnato voi. Poi, quindi a maggio si continua, American Psycho si finisce, poi a giugno leggiamo Perché leggere i classici, nella Maratona Scrittori. Poi, arrivo eh, non potevo farmi dare la tabellina da fidanzato invece di sta roba. Fidanzato, se stai seguendo, ce l'abbiamo la tabellina stampata, che è più comoda. Poi, che belli, che belli, mega hype sempre per me, anche se poi non so a cosa partecipo, non ti preoccupare ovviamente. Dopo avete tutto il tempo di scegliere. Io intanto ve li spoilero. Arriva la tabellina, ecco, grazie che è più comoda. Mi sto emozionando. Un attimo, un ottimo, fortuna Calvino non l'ho già letto. Capote già letto, eh, beh, mi dispiace, te purtroppo alcuni li hai letti, te, 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 non rispetti minimamente i gruppi di lettura, quindi, cioè, tutte le volte che devo fare un libro di un gruppo di lettura, tu lo stai leggendo così, di nascosto. Io finora ne ho letto nessuno, grande Anna. Poi, a luglio, inizieremo a leggere la trilogia di Aruf, che anche questa l'avete letta in molti. L'ho letto prima di conoscerti. È lo stesso, non sei scusata, bella. Allora, a luglio leggeremo Canto della pianura, di Aruf. Ad agosto leggeremo Crepuscolo, di Aruf. E a settembre, chissà che cosa leggeremo, secondo voi potete indovinare, Benedizione, di Aruf. Scusate che tolgo il messaggio, ok. Ora è colpa di Bea, suona strano, eh, Bea ormai sta, l'ultimo banco con te è colpevole insieme a te a volte. Eh, e poi comunque tu potevi avvertire Bea, ecco, mi è arrivato volando la tabella. Oppa! La tabella con tutte quante le scritte, così è più facile, se non devo girare il calendario. Eh, questa invece lettura mi manca Benedizione, ma la leggerò presto, se no mi scordo tutto. Ci sta, assolutamente. Anch'io li ho già letti, però li rileggerò nel gruppo di lettura, perché li volevo rileggere in ordine giusto, visto che li avevo letti in ordine sbagliato. Ecco, merda, anche questi li letti l'anno scorso e non mi hai fermata, tutta colpa tua. Eh, cio, io l'avevo detto che volevo leggere in gruppo di lettura. Aruf è nel mio cuore, anche se a me mancano gli altri, ma rileggo volentieri. Ah, ma sono stati votati dopo. Sì, infatti, votati dopo. Questo invece è letta. Matteo Subrette che porta i fogli. Vabbè, infatti, gli Aruf anch'io li rileggo volentieri, grande Barbara. Poi, oh, come è molto più comodo, ad ottobre leggeremo Marina di Zafon. Io li rileggerò in futuro, ma l'anno prossimo è troppo presto. Comprensibilissimo, Anna. Poi, invece, a novembre e dicembre, per la Maratona Scrittori, leggeremo Romanzo Criminale. Marina ci sono sicuro, grande. Molto bene. Quindi, questi qui, Marina sì, solo se c'è su Audible. Non lo so, non ci ho guardato. Ce ne sono tanti su Audible, dei gruppi di lettura, ma non mi ricordo quali specifici, quali no. Quindi, questa qui era la Maratona Scrittori. Perché lo ribadisco? Perché è importante? Perché quest'anno ho fatto un giochino di divertente. Giochino, vabbè. Ho fatto una cosa speculare che a me diverte tantissimo. Quindi, fate finta di essere entusiasti, anche se non mi frega niente. Perché, mentre lunedì c'è la Maratona Scrittori, il martedì c'è la Maratona Scrittrici. E quindi, il martedì leggeremo le scrittrici, il lunedì gli scrittori, e poi quindi faremo tipo i sondaggi e vedremo in parallelo cosa vi piacerà. Romanzo Criminale o no? Odio il genere. Il lunedì sarà poco con voi. Fa niente, Bea. Ci farei compagnia negli altri giorni, dai. C'è un GDL al giorno, anche il prossimo anno. Mi sembra che ci sia su Audible, però devo controllare. Ottimo Romanzo Criminale, da anni che voglio leggere. Infatti, anch'io se l'ho in libreria tantissimo. Fortunatamente, adesso non mi ricordo se era stato scelto o era fra i primi. Cioè, era tipo 32. Ah, una cosa che non ho detto. Io ho scelto i primi 30 libri che sono stati votati nel gruppo di lettura, come avevo promesso, che poi in realtà erano 32 perché c'erano dei pari merito. E poi, per inserire i libri che mancavano, ho attinto sempre dalla classifica, sempre da quello più votato. Quindi sono sempre più votati per voi. Ovviamente quelli che ci stavano bene per quello che dovevo fare, perché non andava bene qualunque libro. Mi sembra che ci sia solo Adoro, mi piace, che c'è anche scrittrici. Esatto, infatti. E poi saranno proprio due giorni vicini, in modo tale che abbiamo proprio scrittori e scrittrici. Allora, per la Maratona Scrittrici invece leggeremo. A gennaio, anche queste qui sono tutte quante in ordine cronologico, ma in realtà tutti quanti i gruppi di lettura del prossimo anno saranno in ordine cronologico. E infatti vi segnerò anche i titoli e guarderemo appunto quali trovate più contemporanei, se è vero che magari quello più vecchio, secondo voi, si sente che è più vecchio, eccetera. Così faremo un sondaggio anche su quello, così indagheremo anche un po' sul gruppo di lettura in generale, indagheremo un po' anche su quello. Quindi avrà più senso, secondo me, anche stare nella... Tipo per Bea, che ha detto che parteciperà poco, almeno avrà più senso partecipare al gruppo di lettura generale, dove non si suono spoiler sui libri, ma si parla dei libri in generale, dove così si possono vedere le differenze tra i libri, insomma, cosa si trova più adatto. Mi sembra che ci... Ma che bello, scrittori e scrittrici, spero di riuscire a partecipare il più possibile, per ora non ho letto quasi nessuno. Vai, Lulu, sono contenta. Bello, bello, bene. Allora, Maratona Scrittrici. A gennaio leggeremo D'amore e ombra di Isabella Allende. A febbraio leggeremo Pomodori Verdi Fritti, di Fanny Flag, si chiama. Poi, a marzo, leggeremo Il Rogo di Berlino, di Edgar Schneider, ma adesso devo smettere di dire i nomi perché non li so gli altri, quindi non è sbaglio. Piano... Eh, vado più piano. Beh, non partecipo perché l'ho già letto, quindi posso comunque votare... Esatto, esatto. Esatto, così però ti può interessare non solo i sondaggi, ma magari si crea qualche dibattito, dai. Adesso vediamo. Allora, abbiamo detto, fino al Rogo di Berlino, marzo, ci siamo? Vado avanti. Ad aprile ci sarà... Non vedo l'ora di Pomodori Verdi Fritti, anch'io, bellissimo. Rallenta, vado più piano. Merda Allende, già letta, eh, Bea. Gli altri no. Mi interessano tutti, quello di Flag ce l'ho, quindi ci sono sicuro. Grande Anna. Beh, Bea, leggi troppo, vedi. Esatto, infatti Bea, date una calmata e smetti di leggere. Allora, ad aprile ci sarà Paula di Isabella Allende. A maggio ci sarà, vado piano così riuscite a scrivere, leggere Lolita a Teheran. Che mi spaventa tantissimo, non vedo l'ora di togliermelo onestamente questo. Cioè, piace tantissimo a tutti e io ho il terrore, quindi mi terrorizza. Poi a giugno leggeremo, sto andando piano apposta, ok, la canzone di Achille. Per la gioia di Bea, anche questo qui proprio lo ispira tantissimo. Ovviamente me lo sono messa taticamente a giugno perché mi sembrava perfetto. Poi a luglio e agosto leggeremo Il Mondo di Sofia. Vado piano. Uh, la canzone di Achille, sì, infatti. Questo qui era proprio stravotatissimo. Poi a settembre, ottobre, novembre vi ho piazzato uno di quelli più votatissimi da tutti quanti. E quello che mi spaventa di più in assoluto. Questo voglio troppo leggerlo ma temo gli spoiler degli altri libri, ce l'ho ma ho paura di questo. Eh, anch'io però tanto non li leggerò mai gli altri libri, quindi, cioè, almeno me lo tolgo perché altrimenti non lo leggerò mai. Sofia ha letto ma ci starebbe una rilettura. D'estate vi starò lontana, sì, perché tra letti e non ispiranti lo sapevo. Ottimo, così se lo trovo leggo con voi la canzone di Achille che sono curiosa. Eccolo, eh, Jesse ha spoilerato il libro. Per aprile mi candido, ottimo. Poi adesso ovviamente ve lo sto soltanto dicendo, pian piano aprirò tutti quanti i gruppi e appena apriranno ve li farò sapere su Instagram, sia nelle stories sia nei post, quindi non vi preoccupate, non vi perdete niente. Infatti, Jesse ha spoilerato su Twitch che a settembre, ottobre e novembre leggeremo per la maratona scrittrici, grazie per il follow, Una vita come tante. Diana Aghiara ha letto da poco, magari entro per sbricciare che sono curiosa, ci sta. Poi, ultimo libro che leggeremo per la maratona scrittrici sarà Il mio anno di riposo e oblio. Ok, stavo per leggere e leggere Lolita, non lo faccio, aspetta il gruppo, bravissima Else. Vedi, si fa così, Bea, funziona così. Sam, vuoi proprio convincermi che le donne scrivono male? Ma no! Sono quelli più votati, non ci posso fare niente. Scusate lo spoiler, pensavo che nel frattempo lo dicevi. No, io sto leggendo ora Una vita come tante con una mia amica, bellissimo, mi sta piacendo un sacco. Mi dispiace Sara, però. Quello lì era stravotatissimo nel gruppo di lettura, nel canale dei gruppi di lettura, quindi si sapeva da mesi. Pensavo non ci sarebbe stato il mio anno di riposo. Sì, quello lì non era stato inserito, però visto che avevo finito a novembre, ci stava un libricino corto ed era perfetto per la data, l'ho messo. Il mondo di Sofia è veramente qualcosa di abberrante, mamma mia! Un insulto all'intelligenza di chiunque. Vabbè, lo scopriremo. Poi salto il mercoledì, perché è la cosa più particolare, quindi ve la dico dopo, e passo al giovedì. Il giovedì è il gruppo di lettura con più libri, perché sono tutti quanti di un mese, vedo qui dalla tabellina che ho. E giovedì ci sarà un gruppo di lettura che credo che vi piacerà, cioè perché è il vostro preferito da sempre. Quindi si riconferma il vostro gruppo di lettura preferito, che è la maratona classica. Quindi nella maratona classica ci saranno dei libri classici. E anche questi qui saranno in ordine cronologico dal più vecchio al più nuovo. Quindi anche qui poi vedremo magari cosa viene considerato più classico, cosa meno, cosa invecchiato male, cosa invecchiato bene, eccetera, eccetera. Nella maratona classica, li sto guardando un po' così, mi ispirano tutti quanti un bel po', quindi sarà, mi sa, anche il mio gruppo di lettura preferito. Maratona classica abbiamo a gennaio, l'amata maratona classica insieme a quella russa, esatto. Allora, a gennaio avremo Il richiamo della foresta di Jack London. A febbraio avremo La signora Dalloway di Virginia Woolf. Rallento un attimo perché c'è chi sta scrivendo. A marzo abbiamo Mentre morivo di Faulkner. Poi ad aprile avremo La Woolf. Sì, infatti non vedo l'ora di leggerla. Ad aprile avremo Pian della Tortilla, o Tortilla, non so come si pronuncia, di Steinbeck. Anche questo qui votato. Questi qui sono stati tutti quanti votati, mi pare. Sì, erano tutti tra i primi 30, forse. Poi al quinto posto, a maggio, ci sarà... Oh, finalmente dei libri belli. Bea! Perfetto, ho fatto bene ad aspettare per London Woolf, Gialletto, Mamma, la follia, Faulkner, l'altro amore mio, meraviglia questa maratona. Sì, sono tutti quanti molto belli. A maggio ci sarà Rebecca, la prima moglie di Daphne Dumourie, che a Bea non mi ispirerà ma sei costretta a berla, a leggerla perché io la amo. Poi a giugno abbiamo di nuovo Steinbeck con l'altro libro che aveva vinto di Steinbeck, cioè La Lunga Vallata. A luglio avremo un libro di Irene... Cioè, sto cercando di andare lenta, perché... Irene Nemiroski, altro titolo che bravo Rebecca. Sì, anch'io lo... Era tutta... Cioè, da tantissimo quello che volevo leggere. Se non ti votano schifezze, io le maratone punto sempre a farle tutte, va bene. Però il prossimo non lo leggerai Bea, perché è della Nemiroski, so che la odi. Rebecca lo prenderò in biblioteca perché nei mercatini non riesco a trovarla. Allora, avremo a luglio Il Signore delle Anime. Ciao, visto che non ho carta e penna, posso trovare un recap? Ciao. Allora, il recap non lo faccio adesso, Però io metterò tutti quanti i gruppi singolarmente, con tutti quanti i libri scritti nei post, nelle stories. Ci sarà il canale proprio con scritti tutti quanti i libri. Quindi non vi preoccupate. È soltanto per averlo adesso, c'è chi lo sta scrivendo lo stesso, ma non vi preoccupate. Lo troverete in ogni dove, cioè tra post, stories, eccetera. Non subitaneamente, ma perché questa qui la diretta spoilerona, ma presto, molto presto. Quindi non vi preoccupate. Comunque inizia nel prossimo anno i gruppi di lettura, quindi siamo ad ottobre. Avete tantissimo tempo per recuperare. Altro titolo che bravo Rebecca, se non ti vuoi dare Rebecca lo prenderò in biblioteca, l'avevo già letto, ok. Poi, ero arrivata a luglio Il Signore delle Anime. Ad agosto leggeremo Cristo si è fermato a Eboli. Proprio così, perché è proprio estivo come titolo. È proprio adatto l'estate. Uno è super felice che legge Cristo si è fermato a Eboli. al mare. Poi, a settembre, cominciamo invece all'area invernale. No, ti giuro che piuttosto leggo Dumouriez e Nemiroski per ritentare fare tutta la maratona. Ciao Olivia, nuovo follower. Hello, hello. Aspetta. Leggerai Dumouriez e Nemiroski per ritentare fare tutta la maratona come impresso a Genier quest'anno. Io quella del lunedì e martedì troppi più no che sì, quindi non tento l'unplain. Eh, purtroppo, beh, sono quelli che sono stati votati. Non avevo particolarmente spazio questa volta, quindi. Ok, ottimo. Anche il signore delle anime, perfetto. Non ce l'ho con te, ce l'ho con chi vota da mille del mondo di Sofia. Eh, quest'anno è stato un plebiscito proprio. Cioè, sono stati votatissimi. Quest'anno ho fatto votare a loro, sui canali dei gruppi, quindi della Nemiroski ho detto tutto, a me piace molto. Spero che mi piacerà. Non ho ancora bene in mente se mi piacerà meno o no. Maratona stupenda, le ho quasi tutti, soprattutto li voglio leggere da una vita. Che bellezza, sono super contenta. Lulù? Concordo con Bea Barbara. Vero, sono contenta anch'io. La democrazia è sopravvalutata. Vabbè, il prossimo anno andrà così. Chi non vuol partecipare, gli faccio il muso e basta. Poi, a settembre, iniziamo con l'aria invernale, invece, perché leggeremo Il Paese delle Nevi, di Cavabata, credo che si chiami, non mi ricordo, è in Audi. A ottobre leggeremo La Ciociara di Moravia. A novembre leggeremo La Noia di Moravia, anche questi qui sono in ordine cronologico. E a dicembre leggeremo Il Libro dell'Inquietudine. Questo qui è l'unico che non è in ordine cronologico, perché Il Libro dell'Inquietudine è stato pubblicato molto, molto dopo, al momento in cui è stato scritto. Quindi, purtroppo, non sapevo dove indicarlo, quindi l'ho messo alla fine. Poi, ok, poi c'è l'ultimo GDL a specchio, perché questa qui era la maratona classica, quindi potete immaginare che cosa c'è il venerdì. Ho un'edizione vintage della Ciociara, oh, chissà che bella. Addirittura mi chiedono di parlare in inglese, ma, cioè, non... Io andrò di audiolibro, penso, questa me la sparo tutta. Dai, devo giusto recuperare quello del giapponese. Ma sì, è poi piccolino in Audi, costa anche poco. Bellissima la classica, grande. Sono contenta che vi piaccia. Che bello, voglio leggerli tutti. Solo pian della tortilla. Forse no, non faceva parte di una trilogia. No, avevo cercato, teoricamente no. Comunque, se fosse, sarebbe il primo. Però, mi sa di... Cioè, non lo so. Io avevo cercato quando l'ho messo. E quindi mi andava bene. Quindi o è il primo di una trilogia, che poi non è una vera trilogia, da quello che ho capito, ma è solo vagamente collegato. O non lo è. Ok? Allora poi valuterò. Comunque, poi guardateci voi, eh. Io sapete che, cioè, insomma, quando non li ho letti non so le cose specificamente. Comunque non era il secondo o il terzo, quello sicuramente. E, ok. Questi qui erano la maratona classica. Adesso c'è il venerdì, che è, appunto, speculare. Come il lunedì e il martedì sono maratona scrittori, maratona scrittrici, il giovedì e il venerdì saranno speculari, perché saranno maratona classica e maratona contemporanea. La maratona contemporanea è, a sua volta, in ordine cronologico. Vi siete stufati sentiremo dire? Quindi, di nuovo, è in ordine cronologico. E la maratona contemporanea sarà divisa in gennaio e metà febbraio. Abbiamo, anche qui, il primo libro di una tetralogia, ma non ci sarà tutta quante la tetralogia, ci sarà tanto questo libro, perché, cioè, potrei morire. Quindi, comunque, aveva vinto soltanto quello. Ed è L'ombra del vento di Zafon. Poi, a febbraio, fine febbraio, nella seconda metà di febbraio, ci sarà Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. È un altro libro che Bea si è letta a sbafo per i fatti suoi. Poi, a marzo, oh, finalmente lo leggo. Infatti, infatti, anch'io. Poi, a marzo, ci sarà un altro libro che Bea ha letto di nascosto e sbagliando, perché doveva essere nei gruppi di lettura. E anche Mauro, quindi fanno comunella peggio di sempre. E sarà Non lasciarmi di cazzo e shiguro. Non solo l'ho letto, l'ho letto due volte. Esatto, cioè, voi proprio completamente, completamente me ne freghisti dei miei gruppi di lettura. Poi, ad aprile e maggio, c'è un libro che Mauro ha già letto, ma che confido che rileggerà con noi. Oh, finora li ho letti tutti. Eh, infatti, Anna, I know you's one. Eh, sì. Ad aprile e maggio leggeremo Il potere del cane di Don Weaslow, che questo qui era stato scelto. Poi, a giugno, leggeremo un libro che io non voglio, cioè, voglio leggere da tutta quanta, da un sacco di anni, finalmente lo leggiamo, questo qui è, credo, no, non è quello che ci tengo di più a leggere nella maratona contemporanea, ma quasi. Non lasciarmi immaginavo e ho aspettato a leggere Brava Sara. Tutti quelli di Cazzo Isshiguro che non ho letto, lo sapete che li metto nei gruppi di lettura, quindi, prima o poi, ci sono tutti. E, dicevo, a giugno ci sarà molto forte, incredibilmente vicino di Jonathan Sanfra Fire, quindi, anche quello lì, croce sopra, leggetelo insieme a me. E poi, a luglio-agosto, ritornerò finalmente da uno degli scrittori che diventerà preferito, perché ne ho letto ancora troppo pochi per considerarlo preferito, ma io non vedo l'ora di leggerlo perché so che lo amerò ancora, ed è Franzen. Infatti, a luglio-agosto, leggeremo Libertà, oppure Libertà, come direbbe Gue Pechegno. Forse l'ho e mi sono trattenuta apposta. Brava, bea, vedi, vedi, ogni tanto, che lo sai anche te ogni tanto. Ottimo, molto forte, ce l'ho, molto bene. Poi, a settembre e a ottobre, leggeremo invece un libro che io ho, ma in realtà non è mio, perché l'ho regalato io a fidanzato, però fidanzato non l'ha mai letto, quindi è diventato mio per, non so, Osmosi, perché è stato qui vicino ai miei libri. Io salto Zaffone perché lo sto leggendo con un gruppo dedicato alle sue opere, va bene. e se, vedi, tradirmi succede così, a tradirmi succede così. Allora, a settembre, ottobre, leggeremo Umberto Eco con Il Cimitero di Praga. Non vedo l'ora di leggere Eco. Aspetto un attimo perché sto andando troppo veloce e me ne rendo conto. Quando avete scritto, ditelo. Ok. a novembre, nella prima metà di novembre, foer letto, avrei letto Eccomi, pazienza. Eh, purtroppo c'era quello di votato. Eccomi l'avevo messo nel canale di gruppi lettura ma non è stato votato. Ok, finora tra Il Potere del Cane e Libertà li ho tutti, letto nessuno. Ottimo, brava Anna. Vedi, te sì che sei brava. Allora, poi, Mauro, fai venire voglia Anna di leggere Il Potere del Cane. Allora, a novembre, nella prima metà di novembre, invece, leggeremo un libro fin qui che anche qui adesso che penso ai vostri gusti, non so. Sì sì, quando si tratta del cumulare sono bravissima. Sono fiera di te Anna. Ed è Sottomissione di Michael, no, Michelle Welbeck o Michael per gli amici. Perché, sai, siamo amici. Sottomissione, stracorto. Poi, ultimissimo libro che leggeremo per la maratona contemporanea e lo leggeremo da metà novembre a dicembre, fine dicembre o metà dicembre, adesso non so, perché di solito finisco un po' prima per non leggere a Natale. L'ho già comprato apposta che ero in super sconto. Ah, brava Beo, vedi? Oh, che bello Welbeck, anche se lui non mi piace. Eh, infatti, infatti, non credevo che partecipasse a questo. Pensa che fedeltà. Eh, no, ah, che fedeltà. Ok, pensa che fedeltà. Infatti, Beo, non me l'aspettavo questo colpo di scena. Grazie. E poi, quindi dicevo, da metà novembre a dicembre leggeremo, invece, l'educazione di Sara. Come che si chiama? Boh, non mi ricordo. Vabbè, l'educazione, è un feltrinelli. Per tutti quanti, adesso, quando uscirete, Tara, infatti, non Sara, per tutti quanti, quando uscirete dalla diretta, o anche, cioè, per chi è su Twitch o comunque se usate un altro device, nel mio, nel nostro shop ci sono già tutti quanti i libri acquistabili. Adesso però vi dico la cosa dello shop fra un po', quindi, ovviamente, aspettate a comprarli, perché, ora, ok, tranne quei due ci sono sicuramente gli altri vedrò. Ok. Ok. Allora, fidanzato mi dice di non dire cose ancora. Ok. Allora, il mercoledì l'ho tenuto da parte, mercoledì misterioso, adesso ve lo dico, il mercoledì l'ho tenuto da parte perché, in realtà, tutti quanti i libri che mi erano stati votati tra i 32 libri del canale, dei gruppi di lettura, li ho già messi e ne ho messi anche in realtà di più, adesso non so quanti sono, e il mercoledì l'ho lasciato libero. Il mercoledì ci sarà il GDL Extra che è un gruppo di lettura che per chi mi segue da vecchia data facevo praticamente il mercoledì proprio in maniera estemporanea, cioè sceglievamo lì per lì che cosa leggere di mese in mese. Quindi, il prossimo anno ho riabilitato il gruppo di lettura di scelta in quel momento lì in modo tale, perché, sì, mi ricordo, esatto, perché, perché so che la soffrite, insomma, che riempiamo tutti quanti i gruppi di lettura e poi non si può leggere niente, quindi quello lì per cosa lo useremo? Lo useremo per letture comunque che scegliamo lì per lì, io vi metterò magari dei sondaggi tra o libri che mi consigliate voi, o libri che ho promesso di leggere, perché tipo in diretta ho promesso diversi libri, mi ricordo la filologia dell'anfibio di Michele Mari, cose varie di Michele Mari, David Foster Wallace, eccetera, quindi tra quelli, oppure se per caso succede qualcosa che ci interessa, ad esempio esce un film di un libro e quindi c'è gente che lo vuole leggere, oppure ci sono gli sconti di un determinato editore, quindi ne approfittiamo per leggerlo tutti quanti insieme, decideremo sul momento, farò il gruppo di lettura relativamente a breve, in modo tale che entriamo dentro e subito facciamo le prime le prime candidature, diciamo, per quello che leggeremo a gennaio e lo decidiamo prima. Sì, esatto, Mari Oster, sto aspettando te da più in un anno, esatto, quello lì l'ho fatto per recuperare perché appunto non sono stati votati e quindi per mantenere la mia promessa ho fatto questo, mi si impolverano, vabbè, non sono Anna, non amo accumulare, devo smaltire entro tanto, va bene, allora avrei l'opportunità di smaltire, ovviamente anche lì sarà sondaggio, lo faremo dentro al gruppo di lettura, però quindi voterà chi è dentro al gruppo e sceglieremo di volta in volta che cosa leggere. In final jest no Barbara, smetti Ralph, in final jest io non lo voglio leggere, sono così contenta che non è stato votato di non infilarmelo di nuovo Barbara, cioè il prossimo anno lo prometto fra due anni intendo, il prossimo prossimo anno, prima devo leggere altro di David Foster Wallace e poi più che altro se leggiamo in final jest è finito il gruppo di lettura, cioè nel senso iniziamo gennaio quello e lo finiamo dicembre presumibilmente, quindi non va bene, va bene, quindi il mercoledì c'è quello, infatti come vedete la colonnina del mercoledì è vuota, ecco là, la democrazia mi stroncherà di nuovo, posso iniziare stasera già che tanto non supero mai la sole sbaramento, ma sì, ma saremo, cioè nel senso, secondo me saremo più noi, insomma, non credo che partecipi gente a caso, comunque sceglieremo tra libri sensati, cioè nel senso non completamente a caso perché, cioè devo anche averli io, devo riuscire a fare le divisioni, eccetera, non darmi false speranze, oh Bea, cioè io non potevo fare più di così, eh, cioè se no mettevo direttamente i libri meno votati che non interessano nessuno se non, se soltanto a Bea, quindi il gruppo di lettura Bea, non fare così, mi sta mettendo i cuoricini infranti. Ok, quindi avremo praticamente due gruppi speculari, eh, lunedì, martedì, e giovedì, venerdì, e il mercoledì, io per te le gogenee, guarda, lo sai che non piacerà neanche a me, quindi è per compagnia, come puoi farmi quei, Bea, cioè tutti quanti i libri che ho detto li hai letti di nascosto per i fatti tuoi, quindi, e, mentre il mercoledì avremo appunto i gdl extra che sceglieremo in contemporanea, Sam te lo rifaccerà vita, sì, io non dimentico mai, mai. Ok, quindi questi qui erano tutti quanti i gruppi di lettura per il leggiamo insieme, cioè quello quotidiano, ci devo ancora pensare, lo vedremo sul momento in quando avremo un po' più di libertà, eccetera, perché sono molto pieni, quindi non so se farò in tempo a fare anche quello, però quello lì potenzialmente, anche il gdl da saggio, eccetera, quelli lì, non li ho messi come fissi, semplicemente perché era infattibile organizzarli prima, nei mesi in cui sarò un po' più libero e sarà più fattibile, li farò volentieri, però per le richieste speciali mi sono tenuta il mercoledì a posto in modo tale da poter mantenere tutte quante le promesse che volete che vi faccia senza dover impazzire perché non riuscirò a leggere più di un tot. Adesso è arrivato il momento di sapere lo spoilerone sullo shop e sui gruppi di lettura. Non so da dove iniziare però, guarda. Quindi, cioè, sono indecisa perché il fidanzato mi ha scritto di non dire non so cosa, quindi va bene. Allora, lo spoilerone dei gruppi di lettura serve soltanto a chi ovviamente è interessato lo shop, quindi se non siete interessati lo shop potete chiudere perché non è... cioè, ci sono degli sconti sui libri quindi possono interessare ed è il seguente. Abbiamo creato... Va bene, va bene. Mamma mia, il fidanzato mi manda dei messaggi. Ok, allora, abbiamo creato in questi... in questi... queste settimane tutto il lavorone che stavamo facendo era per creare una box dei gruppi di lettura. Come funzionerà questa box dei gruppi di lettura? ho un esse qui, cioè, una box, cioè, una box normale ovviamente aperta questa perché non sono stata a chiuderla, con all'interno ovviamente cioè, sono incelofonati e tutto, adesso ve li faccio vedere così ovviamente liberi, delle cose che sono state fatte apposta per i gruppi di lettura e per agevolare il lavoro del gruppo di lettura a tutti quanti quelli che parteciperanno. Agevoli in base di scatola, esatto. Allora, ovviamente, come potrete immaginare, la cosa di base della scatola sarà il calendario leggo quando voglio con tutte quante qui ci sono tutti quanti link ai canali ai gruppi. poi ci sono ovviamente tutte quante le divisioni dei gruppi di lettura ovviamente in quello del GDL extra visto che non abbiamo deciso abbiamo messo la divisione allo stesso e voi dovrete mettere soltanto 1 di 4, 2 di 4, 3 di 4, 4 di 4 o quello che sarà di numero perché ovviamente non sapendo quali sono i libri che leggeremo ovviamente non potevo farlo prima. quindi questo qui è ovviamente l'elemento base della scatola della box dei gruppi di lettura ma ovviamente ci saranno altre cose. L'altra cosa importantissima che ci sarà ma posso prenderle a cazzo vero cioè tipo prenderne 7 1 della maratona classica 2 delle scrittrici eccetera non ho capito in che senso prenderle a cazzo cioè il calendario è uno solo Bea cioè il calendario con tutti quanti con tutti quanti i giorni come al solito il calendario è il solito calendario di sempre cioè abbiamo fatto il solito calendario tanto che è azzurro cioè non cambia niente semplicemente non il calendario ah dici i libri? ah sì sì non ti preoccupare adesso lo spiego te sei troppo avanti Bea aspetta un atom ma io non l'ho detto oh ma fin d'antanto mi sta rompendo per gli spoiler ma li sta facendo Bea gli spoiler mica io scusa non ho capito ma non mi scriverai che per quello che dice Bea avrà già letto non sono box preformate no non ha letto niente fidanzato cioè è inutile che fai così non ha capito niente ancora smettila va bene è normale che ci vedono e ci vendono i libri dai scusa Matteo cioè allora lavora te non guardare la diretta cioè è impazzito allora cioè il calendario io sto dicendo una cosa alla volta Bea fate la fila una cosa alla volta una cosa che ci sarà dentro la box è il calendario ho parlato di libri no ok allora il calendario con tutte quante le info ma scusa fidanzato se Sam dice box gdl non è che è spoiler cioè quanto pare spoiler allora la prima cosa è il calendario con tutte le date la somma fa 10 cos'è che scrivi ma senti fidanzato mi rischi di far fare spoiler con i tuoi messaggi che non capisco niente di quello che dici ma che cazzo dite infatti ma come non stiamo parlando di lì stiamo parlando di calendari allora c'è la box di gdl vedi dei libri qui dentro non ci sono dei libri non ci sono dei libri oh niente fidanzato è impazzito allora fatemi parlare dentro questa box di gdl io non ho parlato di libri noi lo davamo per scontato che si trattasse di libri ok però io ho detto soltanto che per adesso ho detto soltanto che c'è il calendario ok c'è il calendario la seconda cosa che c'è c'è l'agenda fatta apposta sui gruppi di lettura quindi non è un'agenda qualunque ma è proprio tarata sui gruppi di lettura quindi ci sarà nella pagina iniziale con presunti spoiler che non ci sono state nella pagina iniziale ci sarà proprio l'indice dove potete scrivere i gruppi di lettura ve l'ho lasciato bianco cioè nel senso con le righe eccetera però non scritti i miei gruppi di lettura per non fare l'egocentrica così chi vuole tradire può tradire e può usare i gruppi di lettura che vuole scriverci quello che vuole qui ci sono le pagine specifiche del gruppo di lettura quindi voi scriverete tipo qui maratona scrittori a pagina 10 andate a pagina 10 qui ci sono tutte quante le informazioni sulla maratona scrittori i libri che leggerete e la classifica che farete voi e qui c'è tipo ad esempio il check se lo vorrete leggere o non lo vorrete leggere così Bea potrai mettere non mettere il check nei libri che ti fanno schifo e avere questa soddisfazione oddio che bella l'agenda la voglio ok almeno con agenda cioè nella box sono calendari tanti calendari esatto 10 calendari come mandare a monte nella diretta spada ho azzeccato finora la box gdl e l'agenda sono troppo brava esatto e poi ovviamente ci saranno le schede anche per i libri specifici poi ve lo farò vedere meglio ovviamente perché qui non è che state vedendo chissà che cosa però fidatevi calendario ed agenda specifico dei gdl ovviamente abbinati perché se altrimenti disegnerò delle cacchie di fianco va bene ok scusate ma il potere del cane di wislo o di savage di wislo quello di savage l'ho già letto e poi comunque è stato votato quello di wislo poi nella box dei gdl oltre al calendario dei gdl l'agenda dei gdl ci sarà anche visto che è piaciuto tantissimo quindi l'abbiamo fatto apposta i foglietti gdl adesso non li state vedendo benissimo praticamente sono della carta intestata tipo quella che sta andando adesso a ruba sullo shop però fatta apposta per i gruppi di lettura quindi praticamente c'è scritto i miei appunti gli scrivete il titolo del libro è piccolino quindi dovrebbe stare più o meno in ogni libro vi pasticcerò a morte ok e ci sono ovviamente le righe per scrivere c'è scritto gruppi di lettura c'è il micino adesso ve lo faccio vedere c'è il micino che è praticamente il nostro sponsorino del gruppo di lettura perché è anche nell'agenda il micino non lo vedete aspetta il micino micino ok e questi qui di questi qui avrete 100 foglietti quindi direi tanti nel senso molto molto temibili potete usare come vi pare ovviamente non per forza per i gruppi di lettura se non lo volete fare se no altrimenti vi potete fare qui scrivervi il commento per il gruppo di lettura mettervi le fasi quello che vi pare potete fare tutto ciò che volete con questi con questi 100 fogliettini e poi l'altra cosa personalizzata che sempre legata ai gruppi di lettura solo legata ai gruppi di lettura specificamente legata ai gruppi di lettura solo presente nella box dei gruppi di lettura come anche la carta intestata adoro adoro bene vedo carino che vedo che piace questo io già non vedo l'ora di fare l'ordine anche se a dicembre potrò vabbè non c'è problema non c'è fretta l'altra cosa fatta apposta per i gruppi di lettura è il segnalibro dei gruppi di lettura aspetta che sto cercando di farlo vedere ok su twitch e su instagram vi posso far vedere soltanto una parte perché questa qui è la cosa che è arrivata sbagliata non abbiamo sbagliato noi ma hanno sbagliato quelli che ce l'hanno fatto ma l'hanno fatto uguale avanti indietro ovviamente non sarà uguale avanti indietro perché semplicemente è diverso perché davanti praticamente potrete mettere appunto il titolo che è molto simile ai segnalibri quelli verdi che stiamo vendendo adesso che vi piacciono tanto nel retro la stampato fidanzato ma non lo sto trovando non lo sto trovando quelli fake sono infatti così bene che non li trovo arrivo oh non li trovo incredibile vabbè insomma il retro ve lo farò vedere poi e ci sarà la possibilità di scrivere tutte erano vicine a quelli veri e grazie fidanzato non me ne ero accorta che erano vicini a quelli veri lo so che erano vicini a quelli veri però non li sto trovando queste informazioni importantissime il problema eccolo l'ho trovato questa box deve essere mia oh sono contenta che vi piaccia adesso ve lo faccio vedere ecco qual era quello che dovevi restituire esatto poi non lo devo restituire sono loro che ce li devono fare avere buoni perché questi qui sono da buttare praticamente perché appunto sono fatti male allora davanti è fatto così ovviamente questo qui è un foglio di carta non è il segnalibro il segnalibro è più fatto meglio sarà fatto così quindi è più rigido fatto meglio carta più grossa eccetera questo qui invece l'abbiamo stampato noi per farvelo vedere davanti sarà così che è quello che avete già visto perché è come la parte che c'è stata fatta l'altra parte sarà così vedete praticamente ci sono adesso lo faccio vedere anche su instagram c'è la data il numero di pagina a cui bisogna arrivare il check per mettere quando sei arrivati e poi come al solito c'è pagina destra pagina sinistra perché vi è piaciuto così tanto che non potevamo non metterlo anche in questo segnalibro quindi praticamente qui potrete segnare tutte le date e anche quando ci siete arrivati oddio che bomba oh sono contenta che vi sia piaciuta no dai non buttarli i regali a cavolo piuttosto bellissimo eh sì che noi abbiamo già pensato però i segnalibri già li regaliamo cioè se regaliamo un segnalibro fallato che cos'ha oddio che bomba vacci che bellezza oh sono contenta che vi piaccia quindi saranno tutti quanti così e saranno apposta dei gruppi di lettura infatti c'è scritto segnalibro leggo quando voglio gruppi di lettura sarà appunto nella box dei gruppi di lettura e ci sarà questa roba qui e poi dentro la scatola dentro la box dei gruppi di lettura ci saranno queste cose che sono state personalizzate e fatte apposta appunto per i gruppi di lettura tutte quante azzurrine micino le robe così ma ci saranno anche altri regalini gli altri regalini che ci saranno oh cavolo non ho preso non ho preso un regalino quindi ve lo dovete immaginare un regalino che ci sarà sarà questo che chi ha già comprato le box sa già che cos'è cioè sono blocchetti di post-it adatti appunto per i gruppi di lettura perché così potrete aspetta che così mi vedono anche su twitch potrete appunto fare tutte sì mancano quelle sì se me le vuoi portare ok fidanzato sono di sopra in mansarda e questi qui avrete tre blocchettini comprando la box e insomma potrete usarli appunto per fare le divisioni dei gruppi di lettura dentro i libri in modo tale da vedere la divisione tienili tu non sfruttarli sì sì certo li sfrutterò io quello è certo ovvio che non li butto non si buttano dai sam ma no no buttano no però non li regalo a voi cioè sono fatti male box bellissima sono contentona tienili tu sfruttali sì sì adoro ottima la cosa delle tappe delle pagine che puoi arrivare grazie ne avevo bisogno esatto perché così lo potete scrivere ve lo potete scrivere anche lì e non avete bisogno di andare a vedere in un punto specifico per vederlo eccetera oppure se scompaiono le cose o cose di quel cioè scompaiono tipo il messaggio fissato eccetera ognuno di voi può comunque scriverselo anche lì e potete avere avete anche il cecchino in modo tale da poter mettere check quando ci siete arrivati comunque quella musica di Casavianello in sottofondo sarebbe la diretta della vita fantastico regala le biblioteche ospedali segnalibri fallati no ma pensavo di usarli io semplicemente e di tenerli dentro al libro no vabbè anche i post-it questa box è il mio sogno sì infatti infatti abbiamo detto no i post-it sono duopo per la box di GDL ma ci saranno i libri sì ma adesso arriva anche i libri fatemi finire perché non è ancora finita la roba che c'è dentro di base non farle pressione mi si agita avete ragione i libri a leggere ok allora poi ultima cosa base che ci sarà nella box dei gruppi di lettura saranno le penne ci saranno due penne leggo quando voglio anche queste qui ovviamente chi ha comprato qualcosa da noi potrebbe averla già vista perché è la penna appunto che diamo c'è nera e c'è blu faccio vedere anche su instagram malissimo però dai c'è una penna nel senso ok che ho scritto leggo quando voglio sopra ma spettacolare sono super gasata spero davvero di riuscire a partecipare più attivamente lo spero tantissimo anch'io l'uolo perché è divertentissimo più gente c'è meglio è e quindi nella box di GDL riassumendo ci sarà calendario con tutte le tappe l'agenda in cui potete usare per i miei i miei GDL o per i GDL che vi pare in modo tale che possiate voi scrivere i foglietti cento di questi foglietti qui in modo tale da prendere appunti su tutto quello che vi pare metterli dentro i libri come preferite e il segnalibro con dieci segnalibri ci saranno non so se ve l'ho detto erano dieci segnalibri dieci segnalibri per ogni box di base cioè fisse fissi ma poi come potete immaginare effettivamente c'è la questione libri adesso ve la dico le penne grazie di quella semprevisione blu e nera perfetto sì però l'inchiostro è nero cioè sono blu e nera sono estetica io me la canto e me la suono scusate gli occhiali per leggere i libri quello servirebbe box deluxe copertina per me ci abbiamo guardato Barbara in realtà però cioè perché volevamo farvela non troppo costosa la box quindi però però in realtà l'avevo pensata proprio esattamente le cose che hai detto oddio sì che sogni faremo la box deluxe in caso dai allora quindi questa qui è la box dei gdl ferma e insomma non c'è nessun obbligo di comprare nessun tipo di libro e c'è questa box qui disponibile ma vi diamo la possibilità di comprare ciao ciao hatter vi diamo la possibilità di comprare anche dieci libri fino fino a dieci libri cioè potete prendere uno due tre fino a dieci libri al venti per cento di sconto qualunque libro possono essere di gdl o possono essere di libri che sono nel nostro shop così a cappero e quindi potrete facendo l'ordine praticamente potrete mettere fino a dieci libri nel nostro carrello e verrà automaticamente il venti per cento di sconto quindi potete comprare quello che volete ovviamente potete organizzarvi per i gruppi addirittura ovviamente non ci sono termini di nessun tipo santi faccio tipo l'ordine stasera ok ok una cosa che non ho detto ciao Dave una cosa che non ho detto è che ovviamente cioè che la box non è cioè non la vendiamo non la spediamo adesso probabilmente la spediremo da lunedì perché appunto i segnalibri ci sono arrivati sbagliati e quindi dobbiamo aspettare che arrivino i segnalibri nuovi quindi finché non arrivano i segnalibri nuovi non possiamo spedirvela per me è già fatto venduto va bene fantastico mi piace mi piace ok quindi praticamente potete scegliere i libri che volete nello shop in realtà c'è già quindi quando volete andare a vedere c'è già trovate linkato sia la pagina dei libri in generale che comunque si trova cioè proprio la scritta libri nel nostro shop ma nella pagina della box c'è anche il modo di vedere direttamente quelli dei GDL se volete attingere da lì sì vabbè vai tra era per dire che da parte mia è già venduto ok i 10 libri mi servono circa quindi sciambola perfetto ovviamente fino a 10 libri poi ovviamente se si prende la box più volte ovviamente si possono prendere altri 10 libri non è quello il problema però non possiamo mazza che i capelli lunghi sì infatti li taglio da un po' hai ragione questo sarà sicuramente il mio regalo di compleanno grande sono contenta che vi piaccia quindi niente l'idea era questa calendario agenda da fogli foglietti e segnalibri più i post-it più le penne e e i libri al 20% quindi era per quello che avevo detto non comprate i libri a meno che non li troviate in sconto buono sconto perché appunto potrete prendere quelli che vi pare di cos'è che scrive scusate ma di anche dei buoni regali ma l'ho già detto dei buoni regali non è che te partecipi a una diretta ci sono i buoni regali ovviamente se voi volete regalare a qualcuno un buono regalo per far comprare la box di gdl non so cosa c'entra però se volete ci sono i buoni regali sul nostro shop come funzionano semplicemente lo comprate la persona gli date il codice la persona ha i soldi a disposizione nello shop e quindi comprerà direttamente con quello senza usare carte e robe varie perché mentre lei spiegava finanzato doveva gestire il sito ecco l'inghipo esatto come mai massimo 10 pensavo minimo 10 di solito il problema è minimo te lo spiego perché massimo 10 è perché noi come tutte le librerie online non posso cioè nessuno può mettere i libri in sconto a caso quindi noi in realtà vi diamo il 20% di sconto perché abbiamo fatto i conti per essere legali nel senso che in realtà noi vi regaliamo sempre di più parti della box in pratica cioè la box praticamente noi facendovi pagare pochi libri in realtà vi facciamo pagare sempre meno la box e quindi ve lo possiamo dare finché non è coperto il costo della box perché se la box è gratis e i libri ve li diamo al 20% è legale quindi non si può fare quindi praticamente lo sconto che avete noi ve lo diamo per i libri perché comunque funzionerà sui libri e sul prezzo dei libri però non possiamo arrivare più oltre del prezzo della box perché altrimenti sarebbe legale ok si ha senso giusto capito non ci avevo pensato esatto perché se no noi metteremo al 20% sempre i libri perché ci guadagneremmo semplicemente però non si può fare invece appunto avendo questa base della box si può fare quindi la box che si compra di base senza libri sì la box che si compra di base costa 44,90 euro ha quelle 4 cose che vi ho detto quindi il calendario l'agenda i 10 segnalibri foglietti la carta intestata 100 pezzi più 3 cose di post-it e 2 penne e costa 44,90 se però volete aggiungere i libri potete aggiungere i libri direttamente dalla pagina dei libri o da quella di gdl che è linkata nella nello shop e mettete i 10 libri che volete che possono costare ovviamente prezzi diversi ovviamente fra di loro io sono andata sul sito a spirciare che figo ok peccato perché mi sa che me ne servono qualcuno in più che i 10 allora beh ovviamente adesso non mi far dire cose che c'è fidanzato che mi guarda però però insomma c'è la possibilità che insomma se questa cosa vi piacerà insomma ci potrebbe potrebbe succedere che col tempo insomma potrei avere l'occasione nuovamente ecco in un qualche altra cosa zitta zitta va bene Matteo te mena no adesso mena no però sgrida sì quindi diciamo che intanto prendetevi i 10 libri che volete prima prima di tutti insomma poi fermo restando che ovviamente se qualcuno che so compra la box per qualcun altro eccetera cioè nel senso se se la fa arrivare a casa gliela dà gliela dà in regalo poi i libri se li può tenere ovviamente quella non mi frega niente basta che l'importante è che diamo al massimo 10 libri per box in modo tale da essere sicuri di non andare fuori di prezzo di fare roba legale insomma sono sicura che i libri li troverò non ti preoccupare va bene ma seguirai anche nel corso dell'anno gli sconti case editrici se riguarderanno i libri le GDL sì però cioè tanto sono già al 20% nel senso non li potremo mai fare a meno del 20% i libri perché sarebbe illegalissimo quindi quindi nel senso quando saranno al 20% ci saranno i libri al 20% se lo potremo fare perché noi non abbiamo il potere di farlo per tutte quante le case editrici ma se abbiamo i permessi ovviamente lo faremo però diciamo che a parte le case editrici base tipo gruppi editoriali in cui ovvio tipo Feltrinelli Mondadori cose così aspetta che eventualmente potranno comprare il 20% quando ci sarà lo sconto senza l'obbligo di comprare la box GDL certo ovviamente sì se noi metteremo lo sconto del 20% perché la casa editrice sta facendo lo sconto in quel momento non dovrete comprare la box ovviamente fuori dalla box certo sì Barbara sì non dovrete comprare la box se avrete il 20% ma Piranesi non era in gara tra i libri del GDL come mai perché io non ce l'ho Piranesi quindi non poteva essere tra i libri nei libri del GDL ho messo soltanto i libri che ho io fino a quanto si può acquistare questa box sempre nel senso compratela quando vi pare tanto comunque ne abbiamo una bella scorta e in caso vedessimo che va rifaremmo insomma le cose quindi non c'è problema domanda vai Jesse se io voglio acquistare la box e aggiungere dei libri tecnicamente dal sito come faccio aggiungi la box aggiungi al carrello la box e poi aggiungi al carrello la box oppure anche dopo non è rilevante poi vai nella pagina dei libri sia dalla pagina della box sia dalla pagina dei libri dello shop eccetera fai quello che ti pare metti i libri se ne metti fino a 10 qualunque libro tu metta si metterà automaticamente al 20% nel carrello quindi non c'è nessuna roba da fare basta che metti i libri per avere i libri cioè se c'è la box e ci sono i libri i libri sono al 20% per avere i libri che scelgo al 25% come faccio li aggiungo a parte sì cioè tu vai nella pagina dei libri o insomma la pagina dei gdl se vuoi mettere i libri dei gdl eccetera poi dopo vi spiegherò meglio anche come funziona il sito magari su instagram eccetera basta mettere i filtri comunque nel sito ci sono c'è la pagina vedete sullo shop c'è la pagina con scritto libri andate sulla pagina libri c'è il il menu a tendina dipende se siete sul telefono o sul computer comunque c'è il modo di mettere i filtri c'è il filtro gdl se mettete quel filtro lì avete i libri del gdl se no ci sono degli editori quindi potete andare sugli editori se vuoi lo puoi far vedere che è la condivisione sì oddio ho fidanzato perché non lavori allora su instagram però non lo posso far vedere quindi dopo quelli di instagram si arrabbiano con me ma allora qui su qui su sul sito vi faccio vedere che praticamente avete questo qui il nostro sito è già filtrato con gdl quindi praticamente questi qui sono tutti quanti i libri del gdl ovviamente poi appena aggiungeremo sceglieremo i libri del gruppo di lettura extra man mano li metterò questo qui è quello normale però voi praticamente cosa vedete normalmente allora vedete i libri che sono così fate più filtri mettete gdl e avete quelli di gdl poi li potete mettere ad esempio in ordine cioè in ordine per quello che vi pare tipo in ordine alfabetico e ce l'avete in ordine alfabetico e quindi cosa devi fare jesse praticamente vai qui c'è la box di gdl scritta qui in alto non so se voi vi state vedendo voi di twitch ok qui in alto c'è scritto box di gdl te clicchi su box di gdl ok l'aggiungi al carrello e l'hai aggiunta al carrello così spero che stiate vedendo aspetta che controllo sì ok teoricamente state vedendo l'hai aggiunta al carrello poi qui sotto ho già già vi ho messo qui sotto già vi ho messo proprio il link sia per i gruppi di lettura sia per tutti i libri in generale metti che tu vuoi dei libri dei gruppi di lettura clicchi su libri dei gruppi di lettura ok voglio pomodori verdi fritti aggiungo al carrello poi se vuoi comprare qualcos'altro torni indietro prendi qualcos'altro io prendo la noia di moravia aggiungo il carrello ok adesso va bene sono a posto vado a vedere il carrello e ci sono i libri vedi che c'è scritto non so se riuscite a vedere perché magari è piccolo comunque c'è scritto un libro al 20% questo qui ve lo fa comprare al 20% e questo qui ve lo fa comprare al 20% quindi costano il 20% la box costa 44,90 di base stata brava fidanzato sono riuscita a spiegare allora aspettate che mi ero persa dei messaggi dietro Matteo ci sottovaluta questo ero ovvio decisamente fino a quanto si può acquistare l'ho già detto ah pensavo lo avessi no non ce l'ho io Piranesi aspetta che finanziato mi ha scritto dice 1 perché Bonpiani è già al 20% ah beh certo giusto ok va bene ok c'era scritto 1 perché i Bonpiani sono già al 20% quindi appunto quello lì non ve lo conta ah ok il nostro shop è tarato per darvi sempre l'offerta migliore quindi se voi sbagliate anche il nostro shop comunque vi aiuta cioè fa sempre la cosa di base quindi se ad esempio mettete 11 libri e per la box di GDL se ne possono mettere soltanto 10 al 20% ma 1 al 20% ovviamente vi fa pagare al 20% tutti quanti perché c'è quello al 20% per la box degli sconti e 10 per quell'altra box quindi non ci sono fregature di nessun tipo aspetta allora quindi in automatico ottimo esatto fidanzato era più agitato di te mi sa ma veramente sì che poi nella scheda delle box c'è il link di rete e libri di GDL quindi facilissimo esatto però potete farlo su tutti i libri lo rispecifico per sicurezza grazie avevo già fatto la prova prima che mi mostrasse visto che Nekrello fa lo sconto top brava San chiarissimo ok ottimo vedi 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 come è pensato tutto benissimo ma che soddisfazione ma dove si trova un gruppo così da nessuna parte ma quanti puntini ci metta fantastico sei stata bravissima San grazie ovviamente tutto merito del fidanzato quello del carrello dello shop non vedo l'ora di farti quest'ordine brava prova di pirla anche se noi non ci scontiamo ci sconti tu esatto bonus o ne sta sì cioè se c'è uno sconto funzionerà è più probabile al massimo che vada troppo che troppo poco perché cioè lo fa automaticamente quindi lui praticamente ti sconta sempre al massimo abbiamo fatto tutte quante le prove per essere sicuri che carrello meraviglioso sta avanti ottimo non ho capito quest'ultima cosa perché per la box allora l'ultima cosa la box dei gruppi di lettura tu puoi avere dieci libri in sconto quindi se ne prendi undici l'undicesimo non è al 20% ma è al 5% però se ti metti undici libri dei quali uno è già in sconto per i fatti suoi ad esempio in questo momento sono in sconto i buon piani quindi sono già al 20% se tra quegli undici libri tu hai messo un buon piani lui non te lo conta per la box di sconti ma te la conta per il 20% così hai gli altri dieci in sconto al 20% e anche quello perché era la box di sconti quindi invece di avere dieci libri al 20% e uno al 5% ne hai tutti i undici al 20% devi dire altre cose importanti posso andare in palestra no puoi andare in palestra direi che ho finito se non ci sono domande sono riuscita a dire tutto quanto quindi adesso attendo soltanto se ci sono domande intanto faccio il riepilogone quindi i gruppi di lettura sono maratona scrittori maratona scrittrici lunedì martedì maratona classica maratona contemporanea giovedì venerdì il mercoledì ci sarà il gdl extra dove voteremo di volta in volta il libro in modo tale da accettare le richieste di tutti la box dei gruppi di lettura costa 44,90 euro all'interno ci sono il calendario fatto apposta sui gruppi di lettura l'agenda con tutta quanta la possibilità di compilare sui gruppi di lettura ci stanno fino a 60 libri 5 gdl e i fogli la carta intestata 100 pezzi in modo tale da poter prendere appunti i segnalibri fatti apposta con la segnalazione della pagina tutto quanto e la possibilità di scrivere le date di gruppi di lettura i 3 post-it 3 blocchetti di post-it 2 penne e basta ho detto tutto e poi c'è la possibilità di comprare i libri al 20% ok ok quindi si può andare oltre in quel caso esatto esatto cioè voi comunque quando fate l'acquisto potete comprare anche 30 libri se volete 10 sono al 20% per la box gdl gli altri se li avete in sconto per altri motivi avrete tutti i 20% non è che non potete comprare libri al 20% in più semplicemente per la box avete 20% ultima cosa se io voglio la box gdl è un'altra cosa da acquistare tipo la porta libri con libri al buio faccio i due ordini separati come è più comodo nel caso per sapere a noi è sempre più comodo un ordine solo semplicemente perché paghiamo per ogni ordine paghiamo una base quindi meno ordine fate e meno noi paghiamo quindi però per il resto non mi fa nessuna differenza cioè nel senso come se hai lo stesso indirizzo la stessa cosa specifica non hai cose particolari puoi fare un ordine solo se invece ti serve per qualche motivo fare ordini separati ovviamente fai ordini separati come ti è più comodo nel caso per sapere per i libri al buio al momento ci sono soltanto quelli da 15 euro quindi però te li mettiamo in caso ti interessasse di più perché li abbiamo tolti quelli essendoci libri in generale ah no ho una domanda vai Bea metterai un alert nel corso dell'anno se un libro del gdl sarà scontato dalle case editrici ti prometto che non ti chiedo di fare la lavatrice ve lo dirò ve lo dirò però cioè nel senso non garantisco nel senso perché non so se ci arrivo potrei potrei dimenticarmelo però se me ne rendo conto lo farò sicuramente su instagram questo è l'unico modo di avere il calendario sarà tipo un gadget della box indipendente come quest'anno il calendario è vendibile separatamente quindi lo potete comprare separatamente costa 20 euro anche l'agenda c'è separatamente costa 20 euro non abbiamo intenzione di darli diciamo in omaggio in quanto speriamo di finirli cioè nel senso perché non vogliamo avere lo spreco quindi non li vogliamo rifare quindi puntiamo a finirli e ovviamente le vendite sono la priorità perché non potremmo vendere la box di gdl se finissimo i calendari quindi diciamo che la priorità sarebbe quella poi non posso dire che c'è tipo a marzo se abbiamo ancora i calendari può darsi che cominciamo a metterli però onestamente spero di no perché ne abbiamo fatti pochi ah perfetto quindi posso fare tutto nello stesso ordine anche per più cose sì sì sarebbe per me ok sì ok chiaro era per capire se c'era il metodo dell'anno scorso l'anno scorso abbiamo cominciato a regalare il calendario vedendo che ne avevamo che ce ne rimanevano non ha altrimenti neanche l'anno scorso era vendibile cioè era gratuito all'inizio ah davvero non sapevo che non c'era la cosa dei libri da aggiungere se ne parla a dicembre nel caso ne parleremo privato per capire cosa fare come organizzarci non c'è problema già si in qualche modo lo troviamo anche perché i libri al buio comunque erano scontati meno che nella box quindi li avevano tolti per quello però però in caso ti interessasse vediamo di rimettere la cosa che funziona eccetera non volevamo sufficiente che non fosse incasinato il tutto perché appunto gli sconti dei libri al buio erano minori quindi quindi ci sembrava più ghiotto il 20% insomma quindi in caso ve lo spiegherò se ci sono domande ovviamente anche su Instagram fatemele pure altrimenti fra un po' vi abbandono perché comunque sono passate le 7 quindi abbiamo fatto le 7 anche questa volta credevo di metterci di meno il micino è contento sì cioè come anche tipo la carta intestata i segnalibri ovviamente adesso non è possibile averli in nessun altro modo però vediamo ovviamente se per caso non lo venderemo ovviamente certo non li buttiamo insomma però l'intento è quello di spero di finirli non abbiamo fatto grandi dosi grandi quantità perché non volevamo sprecare appunto no in effetti se ci sono i libri a parte li posso prendere a parte basta senza libri al buio ne ripareremo ma poi Jesse tu potrai tranquillamente a meno che tu non voglia già usufruire di tutti i 10 libri nella box di GDL tu puoi tranquillamente prendere un libro e dirmi guarda questo qui l'ho preso per rappresentare il prezzo ma in realtà è a buio cioè quindi che non vuoi quel libro specifico lì ma vuoi spendere tipo 16 euro ad esempio al 20% adesso non so i conti non li faccio non ci provo neanche a far finta di sapere i conti però tipo se vuoi fare così al 20% ma un libro al buio ti prendi un libro e mi scrivi poi nella nota guarda Sam che questo qui l'ho preso soltanto è ma in realtà voglio tra questa wish list oppure un libro di Brot o cose così capito Jesse quindi non non ti preoccupare mi sono scordata di cucinare molto bene ah oh che ve leggete regà non stiamo leggendo niente oggi parlavamo dei gruppi di lettura del 2023 quindi quindi non non parliamo non stiamo è l'unica diretta in cui non parliamo di libri effettivamente anche se vi dico va bene se non ci sono domande vi saluto e ci vediamo venerdì per la diretta dei libri del 2022 dove parleremo dei libri del 2022 continuiamo la classifica di settembre ci sarà la terza parte ah ho capito Sam sì sì ok perfetto meglio Kindle o libri normali secondo me non sono un alternativo cioè secondo me sono da usare in due momenti diversi cioè meglio i libri normali ma quando non si possono usare i libri normali e il Kindle aiuta secondo me avere anche il Kindle ti fa leggere di più e quindi è per me una cosa positiva come anche gli audiolibri cioè non sono un'alternativa al libro mentre puoi usare il libro ma sì il Kindle anch'io li scarico tanto no questo non si fa io vendo libri quindi con me caschi male ovviamente non sono proprio pirateria proprio per niente ciao a tutti vi saluto ci vediamo venerdì per la diretta dei libri del 2022 ciao 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 ciao